e bello a tutti ragazzi bentornati sul canale del signo scegli siamo su PES 2016 per continuare il campionato master con la Roma ci abbiamo partita contro il Verona e contro il Milan contro il Verona io direi di giocarcela però sono un attimo incuriosito dalla sua posizione in classifica così magari ce lo andiamo pure a simulare è il 14esimo il Verona ragazzi che dite che dite se può simulare così ci facciamo subito lo scontro diretto col Milan che dite ma si ma si ma dai 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 proviamo salta l'incontro attenzione 3 a 0 abbiamo perso 3 a 0 però il Milan ha pareggiato quindi godo ancora di più ci ha preso solo un punto il Milan adesso ci andiamo a fare subito la partita contro il Milan vabbè guarda non me frega niente non me frega assolutamente niente va bene così quindi giochiamo contro il Milan e andiamo subito in campo poi ci sta la partita di Champions ragazzi eh con il Merseyside Red semifinale mamma mia eccoci qua comincia ufficialmente lo scontro diretto subito come giochiamo mamma mia subito fortissimo è partito Drobino vuole andarla a chiudere subito dai Drobino ma no se l'è cagato stavolta di testa di solito lo sapete no quando le prende con quei corna che si ritrova la mette sempre dentro taci sua attenzione l'origino l'ha presa ed è uscita di pochissimo che cos'è no mi sa che eh si ripesta dal fondo vabbè siamo partiti bene eh regà siamo partiti veramente bene attenzione annaggia la puttena dai no 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 che sfiga regà che sfiga la soluzione profondità la soluzione origi è buona è parata incredibile e Arcas la butta fuori oddio quanto è fortunato il Milan oggi ragazzi quanto è fortunato dai Drobino è lui è davanti il tiro è rete sempre lui ragazzi me lo stavo per cagare comunque perché non so perché ma non me la so sentita di tirare subito così la bomba allora ho rallentato un pochino però l'importante è che Drogba di finalizzazione c'ha tipo 300 300 mila 330 300 ci fa la bella e però ha segnato quello è l'importante e finisce qui ragazzi andiamo subito alla partita di Champions contro il Merseyside Red abbiamo allungato di nuovo contro contro il Milan cioè quindi abbiamo aumentato in classifica il divario il distacco che ci insomma ci divide e dai guarda andiamolo subito guardiamolo subito 73 e loro 67 l'ha raggiunto addirittura il Genova va bene quindi adesso andiamo subito in campo contro il Merseyside Red fuori casa semifinali di Champions ragazzi miei non so come ho fatto a non pensarci ma il Merseyside Red è Liverpool come ho fatto a non capirlo non lo so e vabbè ci siamo hanno Balotelli e Sbarbatelli davanti con lo stronzetto e ci siamo siamo tra le 4 squadre più forti d'Europa si può fare tanto ma il Liverpool è fortissimo ragazzi speriamo bene sto facendo giocare no mi sono sbagliato non sto facendo giocare Origi attenzione Masturre che se ne va incredibilmente oh che gol che cosa ha fatto Origi pallonetto incredibile e fotte il portiere pensavo cioè pensavo che se la fosse allungata invece è andato lì per sbaglio ho premuto il pulsante del del pallonetto e la mettiamo dentro grazie Mignolet hai preso del Mignoletto con la mano mi sembra mo vediamo eh se ci fa vedere il replay la regia cortesemente eccolo arriva attenzione Masturre qua ha fatto il fenomeno si è smarcato tutti guardate qua eh qui un passaggio un po' di merda lui si allunga tantissimo pallonetto Mignolet la prende di Mignolet e segniamo no ragazzi uh facci su mi sa che era moreno questo qua che ci ha segnato cioè no che ci ha segnato questo cazzo gli piace rip questo qua ci ha fatto il tiro ragazzi Masturre sta facendo una partita da Dio proprio dai alla drobbino no liscio liscio Napris attenzione Teyes grande finta peccato Sterling è veramente una rottura di coglioni molto forte è Masturo attenzione Masturo attenzione Masturo può tirare il a giro era buona era buona dai bravo Mignoletto bella sta apertura bella vai trucbino è rete sempre lui ragazzi 2 a 0 fuori casa i gol fuori casa ricordo che valgono doppio si sta mettendo benissimo ragazzi benissimo non me l'aspettavo così meno male meno male e finisce qui ragazzi è finita 2 a 0 in vista del ritorno è veramente qualcosa di troppo vantaggioso ragazzi non potete capire quanto 2 a 0 all'andata veramente buonissima questa cosa il il Milan ha perso 3 a 1 contro il Chelsea quindi il derby italiano in finale di Champions lo vedo difficile anche se tutto è possibile vediamo qui Drogba miglior giocatore del mese ok prossima partita che ci vedremo nel prossimo episodio sarà Roma-Torino e Roma-Merseside Red quindi Roma-Liverpool e noi giocheremo in casa addirittura poi abbiamo la partita contro il Chievo e poi presumo aspettate eh perché non diamo un bello sguardo un po' a quello che tocca fare allora Torino e Liverpool nel prossimo episodio poi abbiamo Chievo chi è? va bene eh 14-7 in campionato pure lei poi abbiamo il contro il Borre Red allora tra dopo l'episodio del Torino contro Liverpool faremo eh probabilmente giocheremo con il Chievo simuleremo contro il Bru Red e ci sarà la finale di Champions ragazzi anzi no simulo il Chievo simulo il Chievo assolutamente faccio l'ultima partita di campionato e l'ultima partita di Champions quindi tra due episodi ragazzi la serie finirà finirà bene finirà male non si sa lo scopriremo insieme ci vediamo alla prossima lasciate un bel like iscrivetevi e fatevi lo vi pare vi lascio il link in descrizione della mia pagina Instagram seguitemi lì per notizie relativa al canale ci vediamo lì e qui bella